Rapina questa mattina la stazione di servizio ESO sulla statale 673 sulla tangenziale di Foggia. Quattro banditi con il volto coperto da cappuccio e armati di pistola sono arrivati con un'auto nel distributore e dopo aver immobilizzato e fatto sdraiare a terra il benzinaio hanno fatto irruzione nel bar Desiderio e si sono impossessati dei soldi contenuti nei registratori di cassa, circa 800 euro, diverse stecche di sigarette e alcuni pacchetti di gratta e vinci. Si sono quindi allontanati rapidamente. Sul posto sono intervenute delle volanti della polizia che stanno visionando le immagini delle telecamere del distributore. Stesse modalità nella rapina a mano armata messa a segno questa mattina alle 7 ai danni della stazione di servizio La Torre lungo lo statale 16 tra Sansevero e Torre Maggiore ad agire in questo caso un commando composto da tre banditi armati e incappucciati ancora da quantificare il bottino. Nell'ambito dei controlli eseguiti dalle volanti della squadra mobile di Foggia e dei reparti prevenzione crimine della polizia durante la notte nella zona del Carmine Vecchio gli agenti hanno intercettato un motorino con a bordo due giovani che viaggiavano senza casco. Alla vista degli agenti i due hanno tentato la fuga nei vicoli stretti della zona. Durante l'inseguimento l'auto della polizia ha urtato anche contro un palo ma nonostante tutto la volante riusciva a bloccare il motociclo in un vicolo chiuso e arrestare il 25enne Vincenzo Bevilacqua e il 18enne Antonio Rocampo. Il Bevilacqua per i reati di resistenza pubblico ufficiale in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il giovane infatti aveva addosso dosi di ascisce e denaro contante per 260 euro mentre è stato sequestrato il motorino che aveva la matricola a Brasa e risultava rubato. Rocampo invece veniva arrestato per resistenza pubblico ufficiale in concorso.